Allora ragazzi, come ogni domenica, io sto qui a sistemare casa, perché sapete, durante la settimana non è che c'è molto tempo, adesso sto facendo la lavatrice, ma alla gente che gliene può fregare che io faccia la lavatrice. Allora, parliamo un po' di cose importanti, stamattina su Movi Radio c'è stato Sant'Angelo, Maurizio Sant'Angelo, non so se è Maurizio Vincenza, due nomi comunque, una persona disponibile, anzi, prima l'ho chiamato per metterci d'accordo per l'intervento ed è stato molto disponibile, alla mano, mi sembrava di parlare, anzi, se avessi chiamato a qualche mio amico magari avrebbe avuto più problemi, tanto come sentite c'è Movi Radio sottofondo perché Movi Radio è la tua radio, anzi ragazzi, non finirò mai di dirvelo, ricordatevi, per chi ama Movi Radio, per chi apprezza tutti i contributi che noi mandiamo, compreso le interviste ai nostri parlamentari, ai nostri portavoce, devono, per aiutarci, per poter far sì che questa radio continui a trasmettere, devono fare perché, ripeto, è una radio che va avanti soltanto con il volontariato, nel senso che tutti con la realizzazione non vengono pagati, nessuno è pagato, è tutto gratuito, però abbiamo bisogno di alcuni strumenti, quindi per far sì che questa radio possa andare avanti, dovete andare su www.moviradio.it, cliccare su donazioni e donate quello che potete, 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, chi può anche 1000, 2000, 3000, 100 euro, quello che può, e niente, chi non può lo dica agli amici, cioè chi non può dice guarda perché in questo periodo di crisi non tutti possono dare un euro, anche se 1 euro è un caffè, vabbè, possono dire agli amici, magari hanno degli amici ricchi, perché non aiutiamo questa radio, perché se non c'è più neanche questa radio, alla fine il movimento, chi è che parla del movimento? Nessuno, quindi www.moviradio.it, donazioni, quanto volete, non c'è una cifra minima. Ciao a tutti e buona giornata.